segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te è insopportabile chi chi è insopportabile sono io insopportabile no scusi stavo commentando no 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 il discorso non la persona assolutamente no no è molto grave quello che viene detto se posso dirlo non volevo interrompere quindi è un commento che viene venuto fuori dall'anima ecco cos'è insopportabile mi spieghi bene però no ecco voglio dire che è insopportabile quest'idea che ci sono solo i competenti e poi c'è la massa ignorante perché così si finisce a questo allora noi abbiamo in italia il 50 secondi sondaggi 50 e 60 e cioè il 50 per cento della popolazione che è contro l'invio delle armi e contro l'invio della guerra è solo una piccola minoranza il 25 il 30 per cento è a favore dell'invio delle armi della guerra cioè sulla base di questi discorsi la minoranza è diciamo competente e la maggioranza ignorante cioè ci rendiamo conto che la democrazia non funziona così siamo partiti parlando dalla democrazia la democrazia non funziona così la democrazia funziona sul principio che anche la persona più ignorante che non ha studiato che non ha fatto le scuole alte che non ha frequentato il lispi o tutti gli istituti anche lì scusa che come ritornata lì che c'è il suo futuro anche il tuo grenale scivoloso perché così vale l'uno vale uno siamo tutti uguali possiamo tutti fa tutto e invece io penso che una cosa è la libertà di pensiero di opinione alla fine si formano le opinioni sì ma l'evole